Oggi parliamo di un ciclista in mare. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Oggi parliamo di una notizia molto divertente. Un uomo, un ciclista, si è lanciato in mare per non pagare una multa. Ma prima vediamo le tre parole. La prima parola di oggi è ciclista. Un nome che indica la persona che va in bicicletta. Puoi dire di aver visto un ciclista o di aver visto dei ciclisti al plurale. E cosa fa il ciclista? Il ciclista pedala. E pedalare è la seconda parola di oggi. Un verbo che indica l'azione appunto dei ciclisti. Il ciclista pedala. Muove i pedali con le sue gambe e con i suoi piedi. La terza parola di oggi è multa. La multa è quella cosa che devi pagare quando non rispetti delle regole o delle leggi. Per esempio, se parcheggi la tua automobile in uno spazio in cui è vietato è probabile che la polizia ti darà una multa che dovrai poi pagare. Ok, possiamo ora leggere la notizia di oggi. Qualche giorno fa la polizia ha visto un ciclista per strada. Come sai, in questo momento non è possibile uscire di casa e fare sport perché siamo in quarantena. Il ciclista stava pedalando in una strada vicina al mare. Per evitare la multa per non prendere la multa è corso con la bicicletta in mare e urlava ai poliziotti di non aver fatto nulla di male. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Se vuoi supportare questo podcast puoi lasciare una valutazione di 5 stelline su iTunes e se vuoi prenotare una lezione di italiano con me trovi il link nella descrizione. Noi ci sentiamo domani. Ciao!